Eccolo che sta per arrivare il momento del debutto di Artur con la maglia viola, numero 27 sulle spalle, dovrebbe andare a prendere il posto di Mandragora. Tutti gli elementi della Fiorentina, non è cambiato l'atteggiamento, mentre qui Artur va a ripartire indietro. Pompetti, Pontisso, sembrano essersi invertiti adesso i due di posizione, con Pontisso centro-destra, Pompetti centro-sinistra. Artur dietro per Piraghi, tutto non è il secondo tempo, Icone e Mandragora, lì dove magari la differenza di categoria non è emersa. E' arrivata invece l'astuzia, Brecola però ha portato il panone verso il centro del campo. Arder, Artur, riesce a trovare Icone, ha bisogno di ritrovare fiducia, Artur Melo, giocatore che dal gremio è arrivato al Barcellona con tante aspettative. L'inizio della stagione in Blaugrana era stato eccellente, poi si è un po' perso. Brecola è disturbare, arriva a recupero alto di Biraghi, subito dentro da Artur, prova a proteggere il pallone. E lo ruba su un asse, poi se lo riprende Brecola. Kaiode, Artur di prima, tra le linee prova a proporsi Arder. Danca, Artur, di prima, fallo di Artur, rialzato il pressing, colpo di testa di Milankovic. Poi Artur con un buon recupero. Cerofolini, Artur, Kaiode. Ancora Artur, dietro per Kaiode. Pronto al cambio di passo, va da... Vabbè, a palleggiare più alto, dice Italiano, ad Artur. Vuole evidentemente in una posizione un po' più avanzata, proprio per facilitare il movimento del pallone. Ancora lo vuole coinvolto, subito, nella manovra. Eccolo qui, lo scambio rapido e poi si butti in avanti. Artur, in verticale. Artur. 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 Biraghi. Di nuovo Artur. Con Brecalo. Artur. Brecalo. Kaiode. Di nuovo per Artur. non vuole pensare al tiro, preferisce allargare. Biraghi. Duncan. Comuzzo. Artur. Ancora Catanzaro. Non riesce però a sfondare. Allora Kaiode. Artur. Non va a sfondare. Artur. Non va a sfondare. 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 Ma fregge. Non gliela devi dare più, Alpe quella parla. Artur. Artur. Punta Veroli. Tocco fuori per Artur. Kaiode. Finta il cross. Si ripropone Artur. Sembra essersi inserito piuttosto bene. Il tempo di recuperare il tempo perso nel corso del cooling break. Cocorin per chiuderla. A spazio. Cocorin. Batte Sala. 3 a 0 per la Fiorentina. Tutto nel secondo tempo. Icone. E l'arbitro Baroni fischia la fine di Fiorentina. Catanzaro vince 3 a 0 la squadra di Italiano. Tre gol arrivati. Tutti nel secondo tempo. Si lascia andare soltanto ora. Un sorriso.